Ciao ragazzi, sono sempre io, Antonio Cozzolino, su come vi potete ricordare vi ho fatto quel video quell'altra volta, oggi siamo su wrestling, comunque vi farò vedere certi video. Dall'ultima volta che ho visto il like, non me ne avete messo proprio un cavolo di niente, soltanto due, e così non va bene, perciò spero che questo gioco vada bene, io penso di sì. Comunque, facciamo questa, giusto, una partitina con dieci persone. Io scelgo, vabbè tronzina che con questo qua vinco sempre, perfetto, ragazzi ora faremo questa battaglia, speriamo che non c'è Kane, quello mi rompe il culo, ok non c'è, comunque iniziamo. Vi faccio giusto questo e poi basta, ok? Se perdiamo, devo chiudere il video. Stavo con sti corsi che non stifo. Vabbè ragazzi, io vi lascio il punto che inizia e poi vi faccio. Ragazzi, è incominciata. Come potete vedere, io non sto comandando niente, guardate, vi posso, vedete, non sto toccando niente. Comunque, vi lascio vedere appena entro io. Vi giuro vi lascio vedere appena entro io, quindi ve lo metto quando entro io. A dopo. Comunque ragazzi, la visuale non è tanto buona, comunque è stato arrivato. Io sono io, sono io, mamma mia, ho abbassacato. E senti, buona questa, come te ne vai via, via. Via, scemo. Aiuto, aiuto. Non ci credo. Mi ha buttato via. Ehi, baby. Yeah, yeah. Fatti sotto. Bomma. Oh, mamma mia, che dove? Ti massacro. Oio, il massacro supremo, aiutalo. Sì, il massacro supremo, mamma mia. Sono un campione per carri. Aia, scemo. Ah, stati bene. Oh, no. Siamo rimasti in tre. Io me ne vado. Sì, sì, fate a botte. Facciamo a botte con sto scemo. Lo stavo tirando giro. Ah, finalmente. Te lo vuoi tirare fuori pure tu? Mamma mia. Oh, mattene via. Ok. Sono gli ultimi due rimasti. Ragazzi, fra poco questo video ve lo stoppò. Spero che vi stia piacendo. Ma prima devo battere questo. Dai, 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 che è l'ultimo. Dai, dai, dai. Aia. Ma stupro, vieni qua. Ragazzi, sto video sta... ... Comunque, se butto via questo, stoppiamo il video. E quindi, stoppiamo il video! Ragazzi, non so come ho fatto, ma ho vinto. Comunque, questo video ve lo stoppo qua. Se vi è piaciuto... Voglio che vi mettete dei like. Comunque, se questo video vi è piaciuto, io vi ricordo di iscrivervi e commentare. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao a tutti!